carissimi fratelli sorelle pace del signore buona giornata a tutti voi questa mattina leggiamo insieme nel vangelo di giovanni al capitolo 6 un brano molto noto quello della moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini gesù era andato all'altra riva del mare di galilea vale a dire il mare di tiberiade e c'era una grande folla che lo seguiva perché vedeva i miracoli che gli faceva sugli infermi gesù decide di salire sul monte si pone a sedere con i suoi discepoli e nel vedere quella grande folla che veniva verso di lui disse a filippo uno dei suoi discepoli dove compreremo del pane affinché questa gente abbia da mangiare fece la domanda soltanto per mettere alla prova filippo perché lui in realtà era conscio di quello che stava per fare e filippo gli rispose guarda maestro secondo me così a occhi e croce 200 denari non sarebbero sufficienti neanche per dare un pezzetto di pane a ognuno di quelli che sono presenti si avvicina andrea il fratello di simon pietro e dice maestro qui c'è un ragazzo che ha cinque pani d'orzo due pesci ma per questa gente non sono nulla e allora gesù comincia a organizzare il miracolo passatemi questo termine nel senso che innanzitutto ordina che tutti si siedano poi prende i pani rende grazie e li distribuisce alla gente e fa allo stesso modo con i pesci e avviene qualcosa di straordinario e cioè che tutti furono saziati con quei cinque pani e quei due pesci e il signore ordinò che si raccogliessero gli avanzi in modo tale che nulla si perdesse e addirittura si riempirono dodici ceste di pezzi di quei cinque pani d'orzo o pezzi che erano avanzati dopo che tutti si erano sfamati ora questo passo sicuramente ispira sotto diversi punti di vista e incoraggia l'anima nostra quello che vorrei semplicemente soffermarmi è un fatto un fatto che già noto e del quale abbiamo già parlato altre volte e cioè il fatto che per dio fare cose straordinarie è qualcosa di ordinario nel senso che lui è capace di fare quello che noi delle volte neanche possiamo provare a immaginare lo dice paolo nello scrivere agli efesini e quando dichiara che lui va al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo perciò fratelli e sorelle non disperiamo mai dinanzi a qualsiasi problema possiamo affrontare perché dio può fare e può fare anche oltre quello che noi possiamo provare a immaginare e poi la seconda cosa è che per realizzare questo miracolo straordinario il signore si serve di cinque pane e di due pesci che sono cose insufficienti per poter sfamare quelle folle e a dire il vero anche noi ci sentiamo spesso insufficienti dinanzi alla chiamata che il signore ci rivolge chissà quante volte abbiamo rinunciato a testimoniare del signore a qualcuno perché pensavamo di essere incapaci forse abbiamo visto che davanti a noi c'era una persona di una certa cultura o magari di un certo livello sociale e quindi abbiamo pensato ma chi sono io per poter andare a parlare a questa persona altre volte forse nella nostra comunità abbiamo rinunciato a svolgere un servizio che c'era stato affidato dal pastore dal consiglio di chiesa perché abbiamo pensato ma chi sono io per poter fare questo forse i fratelli non si rendono conto di quanto io sono limitato cari nella grazia la gloria deve andare al signore e quando facciamo qualcosa per la gloria di dio perché il signore ci chiama a farlo e ci chiama a farlo anche tramite i suoi servitori i ministri che gli ha stabilito nella chiesa non tiriamoci mai indietro perché se il signore ha messo in cuore al tuo pastore di chiamarti a svolgere un servizio beh vuol dire che dio ha visto in te le giuste attitudini tu rimetti quel servizio nelle mani di dio chiedi aiuto a dio e colui che ha moltiplicato i cinque pani d'orzo e dei pesci è capace di poter moltiplicare le tue risorse renderti capaci di fare quello che tu pensi di non essere all'altezza di fare l'apostolo paolo dichiarava che quando lui si sentiva debole allora era veramente forte è veramente così fratelli e sorelle quando noi ci sentiamo insufficienti beh allora dio può operare in un modo straordinario perché noi inevitabilmente rimettiamo la nostra vita nelle sue mani perciò coraggio serviamo il signore anche nelle nostre piccole comunità magari viviamo in piccole città dove ci sono piccoli gruppi e forse ci sentiamo un po scoraggiati perché pensiamo se fossimo una grande chiesa allora sì potremmo fare questo quest'altro no fratelli no bastarono cinque pani d'orzo e due pesci tu il piccolo gruppo che vivi che vivete nel paese dove ti trovi siete gli strumenti di cui dio si vuole servire per portare un risveglio nel vostro paese e per poter vedere un gran numero di persone trasformate dalla grazia di dio fratelli e sorelle non commettiamo l'errore che delle volte facciamo cioè di pensare che le opere di dio dipendono dagli uomini è vero dio si serve sempre di uomini consacrati ma non per forza questi uomini consacrati hanno grandi talenti semplicemente hanno donato la loro vita al signore e se tu doni la tua vita al signore dio si servirà anche di te elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni eppure pregò e non piove per tre anni e sei mesi poi pregò e tornò a piovere di nuovo anche tu puoi essere un elia anche tu puoi essere usato da dio guarda alla grandezza di dio non alla tua pochezza guarda a ciò che il signore è capace di fare non a quello che tu sei in grado perché come diceva paolo chi è sufficiente dinanzi alla chiamata del signore nessuno eppure dio per mezzo di uomini limitati compie opere grandiose e forse anche tu sei chiamato da dio a servirlo nella semplicità fallo fallo con tutto il cuore con tutta la tua mente con tutta la tua forza dio ti onorerà dio ti benedirà e vedrai grande cose per la gloria del signore perché colui che ha moltiplicato i pani e i pesci è lo stesso che ancora oggi chiama a sé coloro che desiderano fare la sua volontà possa il signore benedire ognuno di noi in questo giorno accompagnarci e darci il coraggio necessario per servirlo fedelmente la sua grazia la sua pace il suo amore e la sua guida sia con tutti quanti noi